Sono in Palazzo Medici Riccardi e vi condurrò alla scoperta della Cappella dei Magi, ubicata in uno degli edifici nella centralissima via Cavour appartenente alla famiglia Medici, che ne avviò la costruzione nel 1445, al tempo di Cosimo il Vecchio. La cappella, con aula quadrata e scarsella sopra levata, posta al primo piano, era al cuore della casa, con una funzione privata e pubblica allo stesso tempo, in quanto accoglieva anche ospiti illustri. Il vano principale con il Viaggio dei Magi fu eseguito da Benozzo Gozzoli, allievo del Beat Angelico, fondendo insieme arte, storia e celebrazione pubblica, con una straordinaria ricchezza di dettagli e di ornamenti, sia nell'accurata raffigurazione del paesaggio che dei personaggi. Nel corteo cavalleresco troviamo ritratte numerosi personaggi della famiglia Medici, insieme a collaboratori arbleati come banchieri e sostenitori politici. Era la piccola cappella privata della famiglia e ad essa si accedeva dalla porta, dove sopra troviamo l'agnello sacrificale con il candelabro a sette braccia. Il soffitto lineo finemente intagliato è opera di Pagno di Lapo su disegno di Giulia.